Rifflettori accesi sul ponte Ipazia a San Giovanni Valdarno dopo le dichiarazioni sulla stampa dell'ex ingegnere capo della provincia di Arezzo Giovanni Cardinali. Su questo ponte c'era già l'attenzione dell'amministrazione comunale come ricorda l'assessore competente. Il ponte è già stato oggetto di un'analisi attenta su quelle che sono le pile di tenuta, fatto sta che in collaborazione con il corsozzo di Bonifia all'interno di un progetto molto più ampio di revisione di quelle che sono le sponde dell'Arno in prossimità del centro urbano di San Giovanni Valdarno, abbiamo anche attenzionato appunto queste pile che hanno necessità di una manutenzione straordinaria per l'escavazione del fiume il quale chiaramente essendo abbassato di livello ha scoperto parti che invece dovranno essere coperte dall'acqua. Quindi in questo contesto è già stato sviluppato un progetto che permetterà appunto questa revisione. Ecco l'ingegnere Cardinali parla dei giunti, su questi secondo lei c'è modo di preoccuparsi o no? Chiaramente l'ultima ristrutturazione del ponte risale oramai a 35 anni fa, ci sono tempi tecnici appunto in cui esistono delle garanzie di tenuta dei giunti di altre parti tecniche. I nostri uffici sono già stati interessati alla questione, sono in corso delle verifiche, da quello che sono i primi riscontri non ci sono allarmi tali per cui l'intervento debba essere effettuato a brevissimo. Non è il caso di chiuderlo? Vediamo, vediamo quali sono i primi riscontri della verifica tecnica, dopodiché prenderemo varie decisioni che hanno vari livelli di attuazione a seconda dell'eventuale riscontro che abbiamo. Grazie a tutti.